Siamo qui a questa bellissima inaugurazione di Forme e allora io declino questa parola lettera per lettera. F di Forme vuol dire fiducia perché queste manifestazioni certamente generano fiducia, la fiducia è una componente importantissima anche per l'economia o come organizzazione perché qui ci sono diverse realtà espositive ma tutte insieme con l'obiettivo di fare squadra per raggiungere il risultato. R come radicamento e M come made in Italy e il radicamento significa che questa manifestazione nasce per valorizzare le eccellenze locali, le tradizioni locali ma siccome è anche made in Italy ormai si espone a livello internazionale e promuove sempre il brand Italia e quindi l'ultima lettera della parola Forme e esperienza che è un passaggio che contribuisce ad arricchire sempre e di più il turismo proprio perché quando c'è la fiducia, c'è l'organizzazione, c'è il radicamento, c'è il made in Italy e c'è l'esperienza, è un pacchetto vincente che fa sì che questa realtà diventi sempre più interessata e interessante e fa sì che questo territorio trovi sempre di più applicazione e successo. Grazie.